partiti e in vantaggio Camp Rock davanti a Golden Atlantic e il triplete in Gioite San Olympic Fire, Mister Gelo, Indos Bank, Pontatire e San Roberto dopo 300 metri di corsa in vantaggio Camp Rock davanti a Golden Atlantic e in Gioite San con all'interno il triplete seguono Indos Bank, Olympic Fire, Mister Gelo, Pontatire e San Roberto. All'inizio della curva prosegue in vantaggio Camp Rock davanti a Golden Atlantic e in Gioite San il triplete Indos Bank, Olympic Fire, Mister Gelo, Pontatire e San Roberto poco prima dell'ingresso di Tura e sempre in vantaggio Camp Rock davanti a In Gioite San il triplete Indos Bank i cavalli entrano in dirittura con Camp Rock in vantaggio lungo la corda davanti a In Gioite San Indos Bank il triplete a centropista Mister Gelo per linee interne Olympic Fire passa in Gioite San Davanti a Olympic Fire Mister Gelo e il triplete Camp Rock in vantaggio In Gioite San davanti a Olympic Fire e Mister Gelo resiste in Gioite San davanti a Olympic Fire Mister Gelo e Pontatire Allora oris fuck in Gioite San in Gioite San la in Gioite San